Il presidente Emiliano faccia subito chiarezza sulla gestione del cara di Borgo Mezzanone a chiederlo attraverso un'interrogazione urgente i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Ventola, Deleonardi, Scaroli, Gabellone, Perrini e Piccaro. Le recenti inchieste sul deputato Suma Oro su vicende che sono anche attenzionate dalla magistratura fanno emergere, sottolineo nella nota stampa, tra le varie delle opacità sulla gestione del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Borgo Mezzanone che si inserisce purtroppo nella geografia dei ghetti dove vivono migliaia di migranti. Il cara di Mezzanone al momento non avrebbe alcun gestore e se mai esistesse non è dato sapere chi è e attraverso quale procedura la Regione Puglia ha eventualmente affidato il servizio. Una vicenda proseguono i consiglieri che affonda le proprie radici in una procedura aperta per la gestione del cara di Borgo Mezzanone divisa in lotti. Nel 2021 il Presidente Emiliano firma il protocollo d'intesa per la riconversione di Borgo Mezzanone tra Regione, Provincia, Prefettura e Ministero dell'Interno mettendo in campo la cifra di poco più di 2 milioni e mezzo di euro che si aggiungono ai fondi del PNRR pari a 103 milioni stanziati dal Governo. Tale affidamento sarebbe stato più complesso e lungo del previsto con un annullamento ingiustificato ed una riattivazione poco dopo. Il 12 ottobre del 2021, circa 15 giorni dopo la firma del protocollo, risulta erogato dalla Regione un finanziamento per la gestione dell'8-1 per il valore di 698 mila euro. La causale è la stessa del bando da 2 milioni e mezzo di euro. Di tutta evidenza, concludono i consiglieri, ci troviamo di fronte a una vicenda nebulosa e sulla quale chiediamo risposte precise, dettagliate e immediate da parte del Governatore Emiliano. La gestione del cala di Mezzanone è materia ampia, cronologicamente e complessa tecnicamente. Vogliamo sapere, concludono così come lo vogliono sapere i pugliesi, se vi è uno sperpero di denaro pubblico per atto perpretato ai danni della dignità umana di chi dovrebbe essere aiutato, dicono.